Una splendida giornata di sole nonostante l'ultima domenica di dicembre, un ottimo numero di partenti, una sede ideale, quella a fianco dello Stadio del Conero e del Palaprometoestra di Ancona. Il secondo trofeo Gianfranco Vitaloni, campionato regionale di ciclocross, organizzato da un club sempre molto attivo, 12 mesi all'anno dal punto di vista degli allestimenti, come il pedale chiaravallese, non poteva avere consuntivo migliore. È vero, gli atleti di fuori regione hanno primeggiato, ma ciò che conta è che questa competizione, che ora fa parte del circuito adriatico cross tour, ha trovato una collocazione ideale, con un percorso rispetto alla prima edizione parzialmente rivisto e decisamente più tecnico. Una mattinata intensissima, partita con un clima molto rigido ed una temperatura attorno ai 4 gradi, che poi si è man mano mitigata. Partenze scaglionate dopo la verifica delle licenze e la riunione dei direttori sportivi, il via è toccato agli juniors maschili, open donne, master F2 ed F3 e master woman per 40 minuti circa di competizione complessiva. Da dire anche che è stata molto nutrita la rappresentanza di atleti da fuori regione, con punti pesanti in palio, anche per le successive gare nazionali. Un'occhiata dunque alla gara degli juniors, dove riesce a prendere subito in largo, il romano Edoardo Crocesi della Capobianchi cicli motosport, che giro dopo giro dei cinque previsti, ottiene un margine immediatamente significativo e dalle sue spalle Niccolò Tonucci e Gianmarco Garofoli debbano accontentarsi di battagliare solamente per le piazze d'onore. Edoardo Crocesi, cicli Capobianchi, ti chiedo anzitutto, tu hai vinto la gara degli juniors, un giudizio su questo percorso a tratti anche molto tecnico? Beh sì, questa mattina faceva abbastanza freddo, il percorso è molto bello, veloce, ci sono stati degli insidiosi, soprattutto nel passare dalla terra all'asfalto con la bicicletta che scivolava un pochino. Senti, come va questa stagione? Penso soddisfacente per te, cosa rappresenta il ciclocross? Beh sicuramente il ciclocross è molto divertente, mi piace molto farlo, questa stagione andava molto bene, ho vinto cinque gare fino adesso, adesso cerchiamo di fare qualcosa di buono ai campionati italiani e a Capannele al Giro d'Italia. Com'era la concorrenza oggi? Beh oggi c'erano molti corritori forti da Giovanni o adesso non ricordo il ragazzo dell'Area Canati che corre anche su strada, che fanno molto bene. Come procederà questa stagione, nel senso quali saranno i tuoi obiettivi principali da qui al termine dell'annata ciclocrossistica? Beh sicuramente come ho detto prima a Capannele fare qualcosa di buono perché corre in casa e poi vediamo agli italiani a Milano di fare qualcosa di buono e poi c'è l'ultima gara il 20 gennaio di questo torneo qua per portare la maglietta a casa. Fai anche strada o ti concentri principalmente sul cross? No, 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 di strada faccio la strada, comunque mi impegnerò per cercare di fare qualcosa di buono, quest'anno sono secondo anno junior e di fare comunque qualcosa di buono sulla stagione su strada. Sottolineiamo che gli organizzatori hanno anche allestito una gara di short track per i giovanissimi a scopo puramente promozionale. Ai partecipanti è stato poi donato un gadget, un modo per avvicinare i ragazzi ad una disciplina come quella del cross che sembra trovare un notevole appilla testimoniato anche dalle folte partecipazioni. A seguire la partenza della gara club riservata agli Open maschili insieme al Master F1. Otto, in questo caso i giri del percorso che alterna fasi di grande tecnica a segmenti decisamente più veloci. Il protagonista della prima parte della competizione è decisamente il dorsale numero 86 Marcello Merlino della D'Amico Utensil Nord che a quattro giri dal termine transita con un discreto margine sugli immediati inseguitori ossia Di Mattia ed Urzino rispettivamente della Bike Pro e della Pro Bike Riding Team. Di Mattia in anella giri veloci, un timing di poco superiore ai 7 minuti, si riprende alla grande da un piccolo incidente in avvio, raggiunge Merlino e lo supera come si suol dire in carrozza. Il ritmo che riesce a tenere quasi forzennato e fa praticamente il vuoto alle sue spalle staccando sulla linea d'arrivo Urzino di 26 secondi e Merlino che si aggiudica comunque l'ambita maglia di campione regionale di 50 secondi. Più attardati gli altri che sono giunti completando il percorso in oltre un'ora con la quarta piazza di Ivan Martinelli della D'Amico Utensil Nord e la quinta di un abitue del ciclocross a questi livelli ossia Pietro Pavoni del Team Cobo Pavoni di San Severino Marche. Sentiamo i protagonisti della gara Open al nostro microfono. Mario Gabriele Di Mattia ha vinto la gara Open, una gara vinta in rimonta il che testimonia penso un grande stato di forno. Eh sì, sono stato due settimane di duro allenamento per preparazione al campione italiano che sarà il 13 gennaio e sì, al primo giro ho avuto una caduta molto forte che mi ha lasciato un po' un po' male diciamo. Poi piano piano mi sono sentito meglio e sono riuscito a vincere. Come sta andando questa stagione ciclocrossistica? Beh, diciamo che all'inizio non tanto bene, dato che sono secondo anno under e i ritmi sono molto elevati. Diciamo che ora mi sento un po' meglio e ho molta fiducia per l'italiano il 13 gennaio. Raccontaci un po' la tua storia, la tua carriera, sei italo-venezuelano. Eh sì, mio padre è italiano di Rossatorelli Abruzzi e dato che la situazione in Venezuela non è molto buona abbiamo deciso di tornare, di venire qua in Italia e io continuare col mio sport. Un'ultima cosa, un giudizio su questo tracciato qui di fronte allo stadio del Conero? Eh, diciamo che è un percorso molto duro, molto insidioso, molte curve e c'era veramente tanto da spingere e questa vittoria la voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a tutti quelli che mi seguono e alla mia squadra perché questo sarà l'ultimo anno perché il prossimo anno passo su strada, insomma. Marcello Merlino aveva monopolizzato praticamente i primi due giri poi cos'è successo, il ritorno degli avversari o un tuo calo di forma? Sì, ho forse esagerato un po' ai primi giri, dopo la caduta di Di Mattia sapevo che lui era il rivale più forte quindi ci ho provato. Volevo, era forse la prima vittoria stagionale e questa ci ho provato e poi mi hanno recuperato e ho provato a stare a ruota ma poi... Terzo posto che ti accontenta oppure speravi alla luce appunto di quella bella partenza in qualcosa in più? Ma sono contento perché comunque ho dato tutto quindi ho conquistato la maglia di campione regionale Marche sono... sì, ovviamente la vittoria era meglio però va bene anch'io sono in preparazione in vista dell'italiano. E l'obiettivo è quello del 13 gennaio, presumo anche per te? Esatto, sì. Sta andando invece questa stagione almeno fino adesso? No, tutto sommato bene, a parte qualche gara ci sta però tutto sommato bene. La maglia di campione regionale comunque è una bella soddisfazione? Sì, 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 l'avevo già vinta l'anno scorso quindi volevo riconfermarmi anche per fare un regalo alla squadra che mi permette un terzo anno in Continental e saluto Ivan De Paoli se ringrazio la squadra. Il programma come detto è davvero fittissimo coinvolgendo praticamente tutte le categorie oltre ovviamente agli enti di promozione che hanno accordi di reciprocità con la FederCiclismo. Dopo gli Open è la volta degli allievi ed esordienti maschili allieve ed esordienti femminili e da chiudere i giovanissimi della G6 maschile e femminile. Quattro nel primo caso i giri previsti e cercano subito di staccarsi il 22 Riccardo Sgarzi bolognese allievo del secondo anno della Ceretolese 1969 e l'abruzzese Luciano Camplone della nuova Spiga Aurea. Sembrano davvero gli atleti che rispetto agli altri hanno una marcia in più anche se alle loro spalle provano il ricongiungimento il battagliero Anthony Silenzi della OP Bike dorsale 28 ed Alex Tozzi della Focus Italy Team. Sono 43 in totale gli esordienti e gli allievi un trappello quindi molto nutrito che si dà battaglia anche nella retrovia. Per la vittoria infatti non c'è partita Sgarzi, Emiliano, stacca decisamente anche Camplone e dalla campana che annuncia l'ultimo giro il suo margine è ormai diventato totalmente rassicurante ed infatti chiuderà con un vantaggio superiore al minuto nei confronti di Camplone che poi, alla resa dei conti, sembra avere un po' mollato. Alle loro spalle Tozzi, Silenzi e Denis Stanusci del progetto Ciclismo Piceno. Tra le donne, agevole affermazione di Eleonora Ciabocco davanti alle sue compagne di squadra della Di Federico Pink ossia Erika Vigilanti e Letizia Medori. Poi gli arrivi, scaglionati, dei giovanissimi. Anche a loro va un plauso per il grande impegno profuso in una disciplina di grande sacrificio. Riccardo Sgarzi, partiamo dal vincitore. Allievo, secondo anno, sei partito, non ce n'è stato per nessuno quindi sei in splendide condizioni. Sì, diciamo che sono partito ho cercato più volte di andare via però poi non ci sono riuscito. Alla fine, nel tratto tecnico, sono riuscito a prendere vantaggio e poi da lì ho proseguito la mia corsa. Ciclocross cos'è per te? Una passione o qualcosa in più? Per me è qualcosa in più perché è lo sport a cui tengo di più per adesso e sono davvero contento di questo risultato. Cosa ti affascina di questa disciplina molto difficile, molto complessa? Principalmente i percorsi e il modo di guidare infatti anche oggi trovo che questo percorso sia veramente bello. Camplone, abruzzese, nulla da fare con questo avversario? No, ce la siamo battagliata il primo giro poi ho avuto un problema tecnico comunque è stato più bravo lui e accetto la sconfitta. Senti, a te chiedo un giudizio su questo percorso molto particolare perché c'è un po' di tutto. Sì, è molto tecnico come abbiamo visto nella prima parte del percorso poi è anche molto da spingere un sacco e niente, è un bel percorso Obiettivi stagionali da qui alla fine della stagione del ciclo crossistica? Un buon piazzamento agli italiani e poi pensiamo alla stagione su strada. Sgarzi, anche per te credo l'obiettivo sia il 13 gennaio? Sì, assolutamente. Con quali speranze, con quali ambizioni? Spero principalmente di arrivare nei 10 visto che l'anno scorso ho fatto 14esima agli italiani e penso che comunque sia un percorso adatto alle mie condizioni quindi spero in un buon risultato. E l'onora Ciavoco, come ha interpretato questa gara per cercare il miglior pensamento come preparazione per i prossimi impegni? Eh sì, oggi siamo partiti in poche eravamo noi tre del team Federico quindi abbiamo preso questo appuntamento per cercare di migliorare in vista appunto del camioneta italiano e speriamo bene. Quali sono le tue condizioni? Beh, ho iniziato il ciclo cross un po' più tardi quindi all'inizio ho sofferto le prime gare però adesso sto cercando di migliorare e speriamo al meglio. Ambizioni, speranze per il tricolore? Beh sì, sicuramente il tricolore sarà un appuntamento molto atteso e cercherò di far bene e speriamo. Giudizio su questo percorso, l'onora? Eh, oggi era un percorso molto impegnativo perché c'era parecchio da spingere io ho cercato di dar tutto e vorrevo dedicare questa vittoria alle mie compagnie di squadra che ieri in allenamento sono state convolte in un incidente e non hanno potuto partecipare a questa gara. Altro valore aggiunto del cross Ancona Trofeo Vitaloni è la presenza a pochi passi di eccellenti infrastrutture particolarmente gradite dagli atleti con iscrizioni, spogliatoi docce, pasta party tutto praticamente, come detto a portata di pochi passi. La cerimonia di premiazione ha chiuso quindi questo ricchissimo programma l'Adriatico Cross Tour dà appuntamento all'ultima tappa ad Ancarano, centro abruzzese a ridosso del Picene il 20 gennaio il pedale chiaravallese alla Gran Fondo di Ancona evento attesissimo dal mondo amatoriale che avrà proprio nei pressi dello Stadio del Connero il suo quartier generale ed il comitato regionale Marche alla festa annuale del 19 gennaio ad Ancona presso la sala della Feder Calci in via Schiavoni Lino Secchi, presidente della Feder Ciclismo Marche verrebbe da dire la location ideale quasi una scoperta questo Stadio del Connero Sì, è l'intuizione di appassionati del ciclocross organizzatori dal pedale chiaravallese con la collaborazione di Emanuele Serrani Marco Pelardinelli Massimo Romanelli che hanno visto in questo luogo un posto adatto per fare il ciclocross veramente bello è degno di un appuntamento nazionale perché c'è la parte veloce la parte tecnica e in più ci sono tutti i servizi che servirebbero per un appuntamento come questo Diciamo che anche le infrastrutture favoriscono, no? Sì, la sede questa qui del Palarossini Stadio del Connero con le sedi delle federazioni è uno spazio adatto che si conigua bene con le esigenze dell'atleti anche per i servizi che sono necessari per questo tipo di gare e questo serve per stimolare la partecipazione tra l'altro oggi ho visto una partecipazione che è veramente elevata come partenti provenienti anche da varie regioni questo sta a significare che è stato apprezzato lo sforzo organizzativo Il ciclocross sembrerebbe che ha pill anche tra i giovanissimi è incuriosisce molto sì, ci sono i bambini la parte giovanile che partecipa molto a queste manifestazioni perché forse c'è un modo diverso rispetto a quella della gara su strada o la pista e quindi c'è questa possibilità in quel periodo invernale di cimentarsi in questi percorsi con una bicicletta che si avvicina di più a quella che utilizzano i ragazzi nell'uso quotidiano dell'andare in bici Senza scendere troppo in dettagli comunque qui c'è una parte tecnica c'è una parte veloce c'è una parte di fatica c'è un po' tutto Ci sono le caratteristiche dei percorsi delle gare a livello nazionale devo dire l'esperienza che hanno queste società nell'organizzare dopo aver visto anche altre situazioni li porta a fare percorsi che sono sempre più idoni tecnicamente a quelli che sono gli appuntamenti nazionali si tornerà quindi in questa location io me lo auguro era lì e lì che si si poteva fare sembrava che si potesse fare un appuntamento nazionale non c'è riuscita la società perché non aveva la certezza delle risorse credo che si possa fare nel futuro tra l'altro c'era già un benestare placido da parte della struttura tecnica nazionale perché apprezza le organizzazioni delle marche Concludiamo con un appuntamento lino quello di sabato 19 gennaio è un appuntamento tradizionale consueto è un appuntamento della premiazione di fine anno che faremo alla sede della federazione gioco calcio che ci ha gentilmente concesso la sala in via Schiavoni qui ad Ancona è un appuntamento che serve per gratificare e premiare tutti i risultati delle gare e delle atleti regionali anche dell'organizzazione ma soprattutto per narrare quest'anno lo vorremmo modificare un po' la storia del ciclismo fare delle videoclip sulla storia del ciclismo e commentare per far conoscere ai nostri giovani anche un po' di storia che secondo me serve anche per appassionarli di più con la presenza del commissario tecnico della nazionale esatto ci ha dato l'adesione Davide Cassani che sarà qua a partecipare a questa premiazione e anche lui potrà portare un valore aggiunto con la sua esperienza e la sua capacità di comunicare anche verso i giovani Giulio Cardinali presidente del Pedale Chiaravallese prima di tutto complimenti perché è stata una bella trovata insomma venire qui allo stadio del Conero beh non è la prima volta è la seconda volta che noi veniamo qua in questo splendido paesaggio insomma poi abbiamo le attività sportive questo è stato anche un banco di prova perché qui faremo anche la partenza della Gran Fondo del Conero che sarà qui 3 di marzo insomma sembra quasi tutto fatto apposta perché c'è il prato c'è la parte tecnica c'è una parte veloce c'è una parte faticosa ci sono le infrastrutture con il pararossino e tutto il resto sembra fatto apposta sì veramente questa è una bellissima location come ormai viene definito sembra veramente fatta apposta per questo sport abbiamo un prato meraviglioso le strutture a disposizione parcheggi sì è un bellissimo bellissimo spazio spero che si possa utilizzare il più possibile comunque da parte nostra penso che molto probabilmente anche il prossimo anno cercheremo di ripeterci insomma tra l'altro particolare non da poco c'è stata una giornata per come è il 30 dicembre veramente splendida sì questo veramente ci ha confortato e ci ha fatto piacere anche se ho ascoltato molti concorrenti che avrebbero preferito il fango a me si sa no il ciclocross no fango pioggia no una giornata veramente meravigliosa sì siamo molto molto contenti soddisfatti il numero di partecipanti molto elevato quasi 200 no tra l'altro molti provenienti da fuori regioni sì molti sì sì molti da le varie da tutte le regioni Limitrofe Abruzzo Umbria Emilia Romagna siamo siamo veramente soddisfatti il ciclismo il cross il fuoristada sta prendendo piede anche qui nelle Marche insomma ovviamente voi smonterete l'attrezzatura e penserete alla Gran Fondo purtroppo sì anzi siamo già siamo già in movimento perché sembra abbastanza imminente due mesi passano velocemente e organizzare una Gran Fondo come sa benissimo è molto molto impegnativa comunque una novità ce l'ha detta proprio la partenza insomma questo sarà il quartier generale della Gran Fondo sì questo sarà il quartier generale della prossima Gran Fondo del Conero del 3 marzo conclusione d'obbligo con le varie classifiche divise ovviamente per categorie partiamo dagli allievi medaglia d'oro per Riccardo Sgarzi della Celetrolese in 30-17-06 secondo Luciano Camplone nuova Spiga Aurea terzo Alex Tozzi Focus Italy Team quarto Anthony Silenzi Opibike Porto Sant'Elpidio quinto Denis Stanusci progetto ciclismo Piceno a seguire Alessio Beciani Matteo Laloni Siro Stopponi Davide Rinaldoni e Lorenzo Sorgi donne allieve prima Eleonora Ciabocco team di Federico Pink in 34-37-95 seconda Erika Vigilanti team di Federico Blu terza Letizia Medori team di Federico Pink esordienti donne Barbara Modesti si impone con la maglia della Beach Adventure Team Elite Master primo Lorenzo Cion team Cingolani con il tempo di 1 ora 10 secondi e 35 centesimi davanti a Simone Riccobelli Bikers Rock'n'Road Andrea Tudico gruppo sportivo Moscufo Filippo Maori e Simeone Febo esordienti successo per Paolo Di Donato pedale teate 32-43-47 secondo Giacomo Donato team Mazzei Ciclitalia terzo Teodoro Torresi polisportiva Morro Vallese quarto Matteo Valentini Veloclub Cattolica quinto Edoardo Mastro Lorenzi team Cingolani a seguire Simone Piano Vittorio Bellucci Gabriele Cannone Sebastiano Raccosta e Mattia Ascani G6 femminile prima Giulia Rinaldoni Morro Vallese davanti a Francesca Sorgia amici della BC Junior e Giulia Cozzari UC Petrignano G6 maschile primo Morgan Dubini Superbike Bravi platform team 25-45-20 secondo Matteo Tullio pedale teate terzo Tommaso Francescangeli Petrignano quarto Alessandro Valenti team Cingolani quinto Alex Giacchetta Superbike Bravi a seguire Alessio Giovagnoli Mirco Persico Pietro Tintoni e Marco Partemi e siamo agli Juniors come detto successo per Edoardo Crocesi Capobianchi cicli Motorsport 40-0-9-0-3 secondo Gianmarco Garofoli recanati Marinelli Cantarini 41-32-50 terzo Niccolò Tonucci Sidermec Vitali Fano quarto Giovanni Schiaroli Cycling team Fonte Collina quinto Enrico Natali Polisportiva Morro Vallese sesto Federico Diomedi sempre della Morro Vallese a seguire Lorenzo Pignocchi Riccardo Fiorani e Marco Cardelli Master 1 primo Diego Marincioni passatempo cycling team secondo Alessandro Magi della stessa squadra terzo Daniele Pallini team Go Fast a seguire Nicola Marchetti Mattia Proietti Stefano Greco e Matteo Sbei Master 2 vittoria per Emanuele Serrani pedale a Guglianese davanti a Giorgio Rossini Crazy Bike terzo Daniele Moretti Velo Club Racing a Sissi Bastia quarto Fabio Marino ASD non solo ciclismo a seguire Andrea Pasquarelli Mauro Magi e Gianluca Censi M3 affermazione per Andrea Perotti autocarrozzeria rally davanti a Gianni Zanetti team Zanetti ed Ezio Camelli della Bike Racing Team quarto Francesco Leonori Beach Adventure Team quinto Mirko Meschini della New Pupilli a seguire Gino Mercuri Giuseppe Paolino Valerio Brugnoni e Ionni Di Cintio M4 oro per Alberto Laloni abitacolo Sport Club davanti a Pierpaolo Pascucci Beach Adventure e Massimo Viozzi New Pupilli completano l'ordine d'arrivo Rocco Valloscuro Germano Cozzari Andrea Croci Marco Pica e Gian Piero Pignotti M5 si impone Pierluigi Quadrini Bikers Rock'n'Road davanti a Marco Brusciotti Villa Rosa Bike Massimiliano Leoni MKG Cycling Team a seguire Luca Michettoni quarto Vibrata Bike e Paolo Sorichetti della New Pupilli le altre posizioni sono appannaggio di Marco Gorietti Luca Agostinelli Paolo Carta Lorenzo Ceccace e Marco Ponte M6 si impone Alessio Livi Cicli Cingolani davanti a Gabriele Arfilli Tim Zanetti e Carlo Tudigo della Pro-Life a seguire Paolo Pirani Moreno Ridolfi Bruno Fares Sergio Micucci Michele Luigi Rubeis Luigi D'Ambrosio e Flaviano Polinori M7 ed M8 si impone Franco Di Vita GC Avis Sassoferrato che precede Graziano Malatesta Tingo Fast e Adamore Bike Racing Team a seguire Antonio Giardino Tullio Pio Mario Giulianelli Giuseppe Campanari Claudio Frollà Giancarlo Gianzante Carmelo Ursino Master Woman successo per Cinzia Zacconi della New Pupilli davanti a Roberta Polce della ciclistica L'Aquila Per chiudere le classifiche Open femminile prima Giorgia Simoni Bici Adventure in 46-49-23 davanti a Martina Cozzari Pro Cycling Team e Alice Palazzi Bici Festival Open maschile successo per Mario Gabriele Di Mattia Bike Pro 58-30-94 secondo Luca Orsino Pro Bike Riding Team 58-56-86 terzo Marcello Merlino campione regionale d'amico Utenzi in Nord 59-20-11 quarto posto Ivan Martinelli d'amico Utenzi in Nord quinto Pietro Pavoni Team Coppo Pavoni a seguire Alessandro Gattaldi Bikers Rock'n'Road Elia Ciabocco San Gemini MG Kavis Matteo Gambuti calzaturieri Montegranaro Marini Silvano Alessandro Animali forte braccio da Montone e Alessio Pignocchi calzaturieri Montegranaro